Il romanzo intanto si svolge a Torino e la città ha una sua importanza nello sviluppo della storia. I personaggi principali sono due, una donna, una giovane donna che si chiama Marta e un uomo con qualche anno più di lei, ma insomma comunque poco oltre la trentina, che si chiama Michele. Si conoscono da bambini, poi si perdono di vista e si rincontrano dopo circa 30 anni, più o meno 25-30 anni e hanno un rapporto prima molto conflittuale che poi si conclude bene. Però in mezzo c'è la storia delle loro famiglie, del loro vissuto in questi 25 anni di distanza. E' anche un modo per guardare un po' la storia di Torino in questi ultimi decenni. Sì, è un modo per ripercorrere, sia pure molto brevemente, la storia di Torino partendo addirittura da prima della nascita dei protagonisti negli ultimi 40 anni, insomma, da questa città che aveva appena assorbito e quindi superato, se vogliamo, il trauma, perché in effetti era stato un trauma dell'immigrazione molto massiccia. Nel frattempo sono sorte difficoltà di lavoro. La grande industria in Piemonte, l'industria madre è entrata in crisi, i sindacati sono entrati in crisi pure loro. Insomma, è una città che ha avuto negli ultimi 40 anni uno sviluppo e una trasformazione molto violenta e ancora non perfettamente digerita, insomma. E coprendo il libro si ha l'impressione che sia non un contrasto, ma comunque una difformità tra la forza dell'immaginazione che c'è in quello sguardo iniziale e poi invece le difficoltà di far contrarre un po' queste cose nella storia. Ci sbagliamo? No, no, non si sbaglia affatto. E cioè c'è un interesse, come dire, visivo. Cioè c'è una persona che in qualche modo interessa facile. Però poi la difficoltà di entrare in comunicazione, credo che sia in qualche modo la difficoltà che oggi tutti noi abbiamo, o molti di noi hanno, a entrare davvero in contatto con gli altri. Forse perché questo mondo virtuale ci ha un po' sbalestrate rispetto a una comunicazione più diretta, una comunicazione fisica sostanzialmente.